Il fronte atlantico che ha interessato la regione tra giovedì e venerdì sta lentamente lasciando l'Italia. Da sabato comincerà a rimontare un anticiclone sul mediterraneo e sulla nostra regione dunque il tempo diventerà via via più bello più stabile con un'impronta quasi estiva. Per sabato mattina potrebbe esserci ancora della residua nuvolosità poi il cielo diventerà ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio comunque in montagna sarà ancora possibile qualche locale rovescio o qualche debole pioggia isolata. Temperature massime attorno ai 28-29 gradi in pianura, attorno ai 26-27 sulla costa. Sulla costa al mattino soffrirà un po' di murino che poi girerà in brezza nel corso della mattinata. Domenica bel tempo con cielo che rimarrà prevalentemente sereno su tutta la regione, qualche cumulo ma direi del tutto innocuo nel pomeriggio in montagna, temperature massime che sfioreranno i 30 gradi in pianura. Anche per i primi giorni della prossima settimana, bel tempo sulla nostra regione con cielo sereno sul pianura e costa, poco nuvoloso in montagna per la normale nuvolosità pomeridiana. Ancora temperature massime attorno ai 29-30 gradi sulla pianura e sulla costa. È tutto, buona fine settimana!